Salve, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui nel campo perché dobbiamo iniziare a piantare queste cosine qua nel nuovo orto. Qua nella parte di orto che abbiamo pacciamato in un video fa. Voglio parlarvi dell'aglione perché non l'ho mai coltivato e ritengo che sia abbastanza importante e interessante come argomento, in più alcune sfaccettature che voglio trattare. Ah, sarà vero che la gallina lì fa l'ovo, eh? Che cos'è l'aglione intanto per cominciare? Questo è una varietà di aglio che viene particolarmente coltivata in Toscana, soprattutto nella Val di Chiana, e ha questa particolarità di essere molto grande, il che lo rende molto meno piccante e incidente sul nostro palato di quello normale, che invece è qua, questo qua, l'aglio piccolo. Questi sono i semi che mi sono messo da parte, i bulbi che mi sono messo da parte dei miei agli da riseminare. Aglio normale, aglione. C'è una certa differenza. Le sue dimensioni lo rendono molto più dolce, come dicevamo, e facile da digerire. Infatti il piatto principale che viene fatto con questo ortaggio particolare si chiama pici all'aglione. I pici sono una specie di pasta molto semplice, e l'aglione perché viene cotto all'interno del sugo. Viene cotto in abbondanza all'interno del sugo perché se ne tritano all'incirca 3 o 4 spicchi di queste dimensioni. Se tu tritassi l'equivalente di dimensioni di questo, di aglio normale, all'interno del sugo della pasta, probabilmente ti verrebbe una fiatella che stenderesti tutto il vicinato almeno per un mesetto. Mentre se utilizzi questo e riesci a digerirlo bene, io ve l'assicuro perché l'ho provata, ha un buon sapore ma non ti rimane tutta la notte sullo stomaco. Quando seminare l'aglio e quando seminare l'aglione? Questa domanda la faccio perché adesso è un po' presto per iniziare a seminare l'aglio normale. Mentre mi è stato consigliato a più riprese sia da il venditore che da altri coltivatori, l'aglione in generale andrebbe coltivato seminato un po' prima dell'aglio. Già adesso potrei essere un po' in ritardo. Più o meno con l'aglio normale andiamo dalla metà di ottobre in avanti fino più o meno alla fine di novembre, almeno per quanto mi riguarda. Poi c'è chi dice che per avere un bel agliaio bisogna seminarlo a gennaio. Per quanto mi riguarda non è così, visto che mi sono sempre trovato molto meglio a seminarlo prima di Natale l'aglio, verso ottobre e novembre. Più tempo li diamo, secondo me, più è facile che sviluppi un bulbo molto grande. L'unica volta che l'ho seminato è passato il Natale, che era circa gennaio, ho avuto dei pessimi risultati e ho avuto degli agli molto molto piccoli. Poi probabilmente è stato un concatenamento di cose, ma io rimango dell'idea che è meglio seminare l'aglio verso ottobre e novembre. Così non è per l'aglione che va seminato un po' prima, all'incirca un mesetto prima. Quando semino l'aglio, in generale, non lo semino troppo troppo profondo, ma nemmeno troppo in superficie, perché l'aglio ha questa particolarità di cercare di sviluppare il bulbo parecchio in basso. Quindi è inutile starlo a seminare superficialmente per far sì che sviluppi il bulbo in superficie, perché comunque lui crescerà sottoterra e continuerà a svilupparsi sottoterra. Uguale quindi anche per l'aglione. Ovviamente se lo seminiamo troppo profondamente, c'è il rischio che subisca troppa resistenza da parte del terreno e non riesca a sviluppare bene le dimensioni del suo bulbo. Soprattutto per l'aglione, che appunto vengono dei bulbi grossi, grossi. Esistono tra l'altro diverse varietà di aglione, perché noi adesso ci focalizziamo su questo, che è quello che è più famoso in Italia, che è l'aglione della Val di Chiana. Ma non dimentichiamoci che di aglio elefante o elephant garlic ne sentiamo parlare anche in altri luoghi europei, oltre che in Italia. E quindi esistono tantissime altre varietà. Soltanto dal momento nel quale io andrò a piantarlo qua, non è più aglione della Val di Chiana, ma diventerà aglione un po' della Val di Chiana, un po' dell'Orto di Joelle. E piano piano, se io deciderò di selezionare i semi che raccolgo da questo aglione, probabilmente creerò l'aglione di Joelle, che lo rende probabilmente unico nel suo genere e diverso dall'aglione della Val di Chiana. Dunque, che cosa fare per l'aglione nel nostro orto? Necessita di una concimazione profonda, di una lavorazione profonda? L'aglione come l'aglio non hanno bisogno di grandissime concimazioni. Le piante liliacee, in generale, non hanno così tanto bisogno di concimazioni complesse, profonde. Per quanto mi riguarda, ho notato che una buona concimazione organica, quindi aggiungere dello stallatico o del compost al terreno, male non gli fa. Anzi, non gli fa per niente male, gli fa proprio bene. Può essere utile avere un terreno molto soffice e friabile. Questo, ovviamente, aiuta l'aglio alla grande nel venire e svilupparsi più facilmente sottoterra. Una cosa di cui sicuramente ha bisogno è il diserbo. Un diserbo abbastanza crostante, se si vuole diserbare. Altrimenti, l'importante è che non subisca troppa competizione da parte delle erbe spontanee e infestanti, perché, ovviamente, altrimenti iniziano a competere per la luce e per il nutrimento, e quindi la pianta si svilupperà di meno. Quella zanzara vuole entrare nel mio obiettivo. Beh, l'importante è dare zero, zero, zero acqua. Zero acqua in totale. Io non ho mai annaffiato l'aglio e, soprattutto, se lo seminate in questo periodo molto anticipato, la pianta avrà molto tempo per sviluppare le radici e l'apparato radicale al di sotto del bulbo e quindi non avrà poi così tanto bisogno di acqua, anche in periodi primaverili. In più, passando tutto praticamente l'autunno, l'inverno e la primavera, all'interno del nostro orto sono stagioni abbastanza piovose nella quale il terreno non ha quasi mai bisogno di acqua. Il freddo, in più, favorisce la germinazione, quindi prima lo seminate meglio è. Ovviamente io gli faccio anche zero trattamenti. C'è chi si lamenta della ruggine dell'aglio e questa la vuole combattere con il rame. Una cosa che ho notato è che si sviluppa soprattutto a chi lo coltiva in serra. In serra, ovviamente, essendoci un ambiente un po' più chiuso e controllato, è più facile che ci sia un po' più di umidità. Quindi il consiglio che vi do, soprattutto perché l'aglio non teme il gelo assolutamente, anzi, è quello di coltivarlo all'aperto. Se avete uno spazio aperto e anche uno spazio in serra, scegliete quello all'aperto. Se avete visto i video nel quale preparavo questa nuova parte di orto, vi sarete resi conto che io ho posizionato tutta della pacciamatura all'interno del mio orto e adesso ancora la sto finendo di posizionare, soprattutto nella proda nella quale andrò a coltivare il mio aglio, il mio aglione, ci sarà molta pacciamatura di paglia e fieno. Fieno, che altro. Questo mi aiuterà in diversi modi. Prima di tutto, vabbè, a mantenere una certa umidità costante all'interno del terreno, evitare le solite cose che evita la pacciamatura, quindi il dilavamento, l'evaporazione, la formazione della crosta, è tutto ok. Ma il fatto che ci sia una copertura costante sopra alla nostra proda impedisce la formazione di una crosta che potrebbe indurire il terreno e quindi impedire all'aglio o di germinare facilmente, anche se comunque essendo un bulbo è facile che spunti, o comunque l'ingrandimento del bulbo. Se c'è una copertura che mantiene soffice il terreno al di sotto, è più facile che il bulbo si sviluppi in larghezza. Ovviamente, essendo comunque pacciamatura che può essere permeata da un'erba, dovremmo comunque tenere sotto controllo le erbe del nostro orto. Oh mio Dio, mi vanno in cancrena le gambe! Come abbiamo detto, l'aglio va abbastanza d'accordo con le temperature molto basse che favoriscono la sua germinazione, quindi non avrebbe un gran senso porre della pacciamatura che mantiene una certa regolarità di temperatura nel terreno. In realtà, la pacciamatura impedisce sbalzi rapidi di temperatura al terreno e quindi comunque il terreno se fuori gela e per 3 o 4 giorni ci stanno 0 gradi, succede solitamente verso dicembre-gennaio, gelerà anche sotto la pacciamatura. Il fatto è che comunque l'aglio non ne subisce danno, ne subisce nel momento in cui magari rapidamente vada caldo a freddo. Questo ovviamente per qualsiasi pianta è di aiuto se c'è della pacciamatura. Usarla va bene, ma usarne troppo comunque non è estremamente consigliato. Molti di voi mi hanno condiviso le loro esperienze, e è venuto fuori che alcune persone coltivando con uno strato molto molto consistente di pacciamatura hanno riscontrato diversi problemi di muffe. Questo può essere prevenuto anche tenendo d'occhio e conoscendo la consistenza e la composizione del proprio terreno. Io più o meno negli anni mi sono fatto un'idea di com'è il mio terreno e credo che nel modo nel quale mi sono andato a organizzare le prode adesso questo possa essere scongiurato. Gli anni precedenti l'ho coltivato in una proda che era in una posizione che impediva abbastanza il drenaggio dell'acqua e questo ha fatto sì che io dovessi integrare all'interno del terreno diversi materiali come per esempio della sabbia o del pomisce che rendessero più friabile e drenante il terreno. Quindi se anche per voi è così avete un terreno con grandi ristagni idrici vi consiglio di aggiungere della pietra pomice anche se tende a compattarsi molto. Pietra pomice e pacciamatura che evita il compattamento. Oh mamma mia. Come abbiamo detto prima l'aglio non ha bisogno di irrigazione e annaffiature e io ve le sconsiglio fortemente perché appunto portano ai problemi funginei e di sviluppo di malattie criptogamiche sulle foglie delle vostre piante. Il fatto qual è? Che se lo seminate presto come faccio io quindi verso ottobre novembre primi di dicembre al massimo ma comunque meglio se da metà ottobre alla fine di novembre avrete più tempo per far sì che la pianta si sviluppi quindi maturerà prima. Se maturerà prima la raccoglierete prima e nel periodo estivo nel quale fa più caldo avrà meno tempo da trascorrere nel vostro orto e quindi non necessiterà irrigazioni ulteriori. Tra l'altro quando la pianta inizia a soffrire un po' e seccare tende a concentrare le proprie energie all'interno del burbo e a ingrandirlo. Quindi in quel momento esatto nel quale dovrete iniziare per esempio annaffiare il resto dell'orto sarà il momento nel quale dovrete lasciar morire l'aglio e quando sarà completamente secco potrete raccoglierlo. Comunque siccome sono rimasto impressionato piacevolmente dal gusto di queste piante andrò a riseminarmene. Ne ho veramente pochi semi perché sono giganteschi e costano una fracca di soldi. Io le ho pagate all'incirca 25 euro il chilo questi semi di aglione nel quale ti vendono tutto il capo del quale probabilmente te puoi seminare soltanto tipo 3 o 4 bulbi ogni capo perché devi scegliere quelli più grandi e belli. Quindi non è detto che tutti sette gli etti dell'aglio che ho comprato io fossero da seme. Infatti ne ho lasciati 3 o 4 bulbetti a casa. Non erano adatti da essere seminati. Questo fa sì che io probabilmente prossimo anno non me lo mangerò nemmeno l'aglione, me lo metterò completamente da parte. Almeno che non diventino proprio grossi così e ci levo un sacco di bulbi allora probabilmente sì qualcosa mi mangerò anche. Ma insomma il senso di questa cosa è cercare di riprodurmi il seme il più possibile visto che ha anche questo grandissimo valore economico e cerchiamo di sfruttarlo in qualche modo. Non c'è niente di male secondo me. Ma siccome siamo stati qui a parlare abbastanza adesso andrei là nel campo a seminarmi il mio aglione in modo da avvicinarmi il più possibile al giorno nel quale potrò farmi i picci all'aglione. Se ancora non l'avete fatto andate a dare un'occhiata nel link qua sotto dove trovate i miei social Instagram e Facebook. Tra l'altro da pochi giorni ho riesumato la pagina Facebook mettendo in contatto con il mio profilo Instagram. Quindi anche chi magari non ha voglia di costruirsi un profilo Instagram e non ha Instagram può seguirmi da Facebook dove praticamente viene ripubblicato ogni cosa che viene pubblicata su Instagram. Vi consiglio di dare un'occhiata a TP per decidere vedere se usufruire di alcuni premi che sono al suo interno. Magari potrete raccogliere anche i frutti del mio orto. Ovviamente se non vi siete ancora iscritti per continuare a seguire l'evoluzione di questo orto, quello che accade, quello che non lo so accadrà in futuro, i frutti di questi bulbi di aglione. Se li volete vedere dovete iscrivervi e attivare la campanella e noi come sempre ci vediamo in un nuovo video qui sul canale. A presto, ciao belli! Ciao!